Le prime notizie di giovedì 18 aprile. La prima cena dei grandi della terra che parteciperanno al G7 di Savelletri sarà a Brindisi, nel Castello Svevo, sede del comando della Marina. All'incontro di Benvenuto, la sera del 13 giugno, parteciperà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ancora sangue sulle strade pugliesi, un uomo di 46 anni, Mauro Vinetti, di Minervino Murge, ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla provinciale 231 nei pressi di Canosa. Era a bordo di una Seat Ibiza che in curva si è scontrata frontalmente con un'altra auto il cui conducente è rimasto ferito. Un pensionato di 84 anni di San Giorgio Ionico, Angelo Marzulli, è morto ieri sera nell'incendio della sua abitazione. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco, lo hanno trovato senza vita nel letto, tra fiamme e fumo, ignote le cause del rogo. Un incendio è divampato martedì sera a Tricase, nel seminterrato di uno stabile che ospita i familiari dei pazienti ricoverati all'ospedale Panico. Nella struttura c'erano otto persone che sono state evacuate. L'edificio è stato dichiarato inagibile. Dopo il ricovero della moglie in una struttura sanitaria assistenziale disposto dai servizi sociali, un uomo ha minacciato di morte e aggredito fisicamente una dottoressa. È accaduto l'altra sera a copertino. L'uomo è stato arrestato e affoggia la direttrice del pronto soccorso del policlinico Riuniti, Paola Caporaletti. È stata prima aggredita verbalmente e poi strattonata ad alcune persone. Il medico ha sporto denuncia. A 24 ore dall'assalto al Postamat di Castrignano del Capo, banditi ancora in azione con l'esplosivo ieri nel Salento, questa volta a Tricase, presso lo sportello automatico dell'ufficio postale di Piazza dei Cappuccini, danni ingenti all'edificio. Aveva appena pagato in un negozio di mesagne con una banconota falsa da 50 euro. Un uomo originario della Calabria è stato arrestato e rinchiuso in carcere dalla polizia. Addosso aveva altre 13 banconote false dello stesso taglio. A due ristoratori di Andria, nei cui locali sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione e lavoratori in nero, è stata sospesa la licenza dai carabinieri. Per loro anche una multa di 20.000 euro. Non ci sarà ricucitura tra i candidati del centrosinistra alle comunali di Bari, Michele Laforgia, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, e Vito Leccese, appoggiato dal PD. I due schieramenti andranno divisi al primo turno, lo hanno annunciato in una nota condivisa. Intanto Paolo Pate, presidente di Amiupuglia, la società per la raccolta dei rifiuti di Bari, si è dimesso dopo essere stato rinviato a giudizio per false comunicazioni sociali nella sua attività professionale di commercialista. Ieri sera dimissioni a sorpresa anche di Angelo Riccardi, l'ex sindaco di Manfredonia, era consigliere di staff del governatore Michele Emiliano. Meteo in mattinata, una tregua dal maltempo, con cieli sereni su quasi tutta la Puglia, dal pomeriggio previsti i rovesci sparsi in alcuni casi accompagnati da temporali, migliora in serata, calano ancora le temperature minime sotto i 10 gradi, venti in rotazione da sud ovest, moto ondoso in aumento sul mare Ionio. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.